buongiorno a tutti cari fratelli e sorelle oggi è martedì 5 marzo la liturgia ci fa incontrare il vangelo secondo matteo al capitolo 18 dai versetti 21 al 35 in quel tempo pietro si avvicinò a gesù e gli disse signore se il mio fratello commette colpe contro di me quante volte dovrò perdonargli fino a sette volte e gesù gli rispose non ti dico fino a sette volte ma fino a settanta volte sette per questo il regno dei cieli è simile ad un re che volle regolare i conti con i suoi servi aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti poiché costui non era in grado di restituire il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa il padrone ebbe compassione di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari lo prese per il collo e lo soffocava dicendo restituisci quello che devi il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò ma egli non volle andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito visto quello che accadeva i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse servo malvagio io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto così anche il padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello il vangelo di oggi ci mette davanti alla tematica del perdonare dell'aver misericordia è facile perdonare se il torto è piccolo ma quanto è difficile invece se il torto è grande le immagini che gesù usa dei 100 denari da condonare ebbene era una cosa fattibile si poteva condonare il debito diecimila talenti invece sono una cifra molto più grande e quindi era più faticoso condonare questo tipo di debito eppure il padrone sceglie di condonarlo sceglie di sciogliere quel debito ed è dio l'immagine di quel padrone che decide di condonare tutto decide di donare tutta la sua misericordia tutto il suo perdono per ciascuno dei suoi figli che umilmente vanno da lui a chiedere pietà a chiedere perdono ma non solo questo padrone questo signore dona il perdono ma dall'altra parte toglie anche il peso del peccato utilizzando un'immagine è come se ci liberasse dalle catene della logica del peccato ci libera dalla possibilità di continuare a cadere sui soliti peccati la fragilità umana però non ci permette di vivere facilmente questo passaggio infatti i peccati che commettiamo spesso sono sempre quelli ma dio è disposto ancora una volta a condonare a perdonare tutti i nostri peccati dall'altra parte chiede anche a noi però di vivere questo tipo di arte questo tipo di perdono se vogliamo in una misura più piccola in una misura più semplice ma che dall'altra parte sa comunque donare libertà alle persone che ci hanno offeso che ce l'hanno con noi perdonare significa ridonare una vita felice una vita libera a tutte le persone che magari ce l'hanno con noi come dicevo all'inizio non è cosa semplice non è cosa facile forse ci viene chiesto tanto tempo per convertire il nostro cuore su questo punto e allora con più forza siamo chiamati a invocare il dono dello spirito santo perché ci aiuti ad esercitarci ancora nell'arte della misericordia nell'arte del perdono perché i muri che ci separano gli uni dagli altri possano un giorno il prima possibile cadere e lasciare spazio all'amore vero all'amore autentico buona giornata a tutti voi